ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è lunedì 18 marzo 2024 iniziamo insieme la settimana come sempre leggendo il resto del carlino e il corriere adriatico sulle pagine locali abbiamo una visione di tutto quello che è accaduto nella nostra regione vediamo oggi anche le notizie di carattere regionale intanto passiamo come sempre attraverso l'almanarco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi eccolo il santo e san girillo di gerusalemme che visse nel quarto secolo consacrato sacerdote da san massimo che era il vescovo di gerusalemme si dedicò in modo particolare alla predicazione fu poi vescovo successore di massimo e in questo ruolo dovete sostenere le persecuzioni in modo particolare degli ariani che in quel periodo con una diversità di interpretazione della fede imperavano costretto in esilio più volte sotto il governo dell'imperatore giuliano giuliano l'apostata e poi di teodosio si distinse per il coraggio con cui difese l'ortodossia della fede ecco perché san cirillo è stato proclamato santo vediamo ora le previsioni del tempo ebbene questa mattina il tempo era tanto e quanto c'erano delle nuve sì ma c'erano anche delle aree di sereno con l'azzurro dell'alba una veloce perturbazione però attraverserà le marche nel pomeriggio e apporterà delle piogge e qualche acquazione in modo particolare verso la sera ebbene le nubi sono piuttosto burascose nel pomeriggio questa mattina invece avremo una giornata dicevo abbastanza accettabile le temperature 12 la minima 17 la massima i venti sulle coste spireranno da sud est nell'interno da sud ovest il mare è leggermente mosso e il sole si è levato questa mattina alle 6 14 e tramonterà alle 18 e 16 ed ora abbiamo le prime pagine dei giornali vediamo il resto del carlino con il sunto delle notizie delle cinque province marchigiane vediamo subito quella di pesaro ospedale di pergola guasto dell'impianto è accaduto veramente un guasto e tutti i pazienti hanno dovuto essere trasferiti e intanto c'è maretta all'interno del partito democratico che in questi giorni lo vediamo anche in altre regioni e in preda veramente a una sorta di ribellione per quanto riguarda le segreterie locali rispetto a quella nazionale e poi si parla di turismo si parla di turismo perché l'hotel riva azzurra di pesaro sarà demolito e ricostruito è una nuova riqualificazione che nell'ambito delle strutture ricettive verrà eseguite nel capoluogo vediamo anche le notizie di ancona abbiamo la foto del direttore muti muti che omaggia gaspare spontini musica dimenticata eppure bellissima quella di spontini ebbene iesi organizzerà un concerto poi ci sarà anche una visita alla tomba del noto compositore ma la nostra civiltà non sa più ascoltare per ignoranza ha dichiarato muti perché questo compositore e deve essere riscoperto deve essere valorizzato passiamo ora ad ancona proprio ancona porto perché vediamo che la ocean biking la nave che trasporta i profughi anche quelli che sono rimasti dal terribile naufragio che è avvenuto non lontano dalle coste della libia ha causato tante morti arriverà proprio nel porto dorico a bordo ci sono 336 migranti e poi a a iesi e a iesi si piange il pioniere della scherma si tratta di luigi lenti prima medaglia d'oro della associazione iesina che poi si è fatta onore a livello internazionale ascoli piceno l'annuncio del vescovo che ha detto che il crocifisso torna a casa dopo il sisma era un crocifisso che è stato danneggiato durante il terremoto del 2016 ora ritorno ritorna restaurato nella sua posizione originaria e poi le sfide del lavoro a caccia e caccia agli stagionali in sala sempre più robot questo eviterà che ci saranno più assunzioni purtroppo sempre per quanto riguarda l'aspetto della qualificazione della promozione vediamo che per quanto riguarda fermo e porto san giorgio turisti e famiglie il nuovo ponte preso d'assalto e poi a monte urano una ragazza sorda dall'infanzia si è laureata in scienze dell'educazione vorrei fare la pedagogista ha dichiarato vediamo anche la pagina di macerata ladri fanno razzia di sigarette e grattini un bottino da 25 mila euro un bottino considerevole e poi a recanati verso le elezioni il debutto di emanuele pepa cambierò la città è il candidato sindaco del centro-destra a monte cosaro ecco il nuovo palace festa con i baby atleti e ora tocca all'asilo e beh anche qui molta attenzione ai bambini allora apriamo il giornale approfondiamo qualche notizia e vediamo come ancora la discarica di riceci acquisti una attenzione particolare dei mass media partito democratico all'attacco lo vediamo in questo articolo bon prezzi lui guida la minoranza interna isoli chi rema contro ebbene abbiamo detto che il partito democratico suscita delle turbulenze a livello locale e in questo caso abbiamo una differenza di valutazioni per quanto riguarda le segreterie locali rispetto a quella governativa aprendo gli organi di stampa di un incontro con la segretaria ellis line in cui sarebbe stato presentato un dossier di contestazione della gestione del partito regionale portata avanti dalla segretaria quella regionale la chantal bon prezzi comunico ufficialmente di non essere conoscenza di un'iniziativa del genere e che dunque essa non può essere considerata ascrivibile nell'area del partito che si riconosce nella mozione che ho avuto l'onore di firmare di rappresentare al congresso lo scrive in una nota michela bello maria la candidata sconfitta al congresso regionale del partito democratico e ora leader della minoranza del partito ci sono delle marette interne ma io direi delle correnti piuttosto turbolente all'interno del partito democratico che in questo momento di particolare delicatezza per quanto riguarda le elezioni amministrative ed europee sorgono al ribalta biancani la lettera di aurora è allucinante il candidato sindaco di pesaro per quanto riguarda il centro sinistra interviene sul caso riceci il verde carraps chiede un'azione di responsabilità verso il consiglio di amministrazione ebbene c'è una lettera inviata alla provincia da parte della società aurora e anche dunque da marche multiservizi perché marche multiservizi ha una presenza importante in quest'ultima società in cui si chiedeva di mettere un dirigente gradito alla guida della conferenza dei servizi e questo veramente è una prova che c'è qualcosa che non va all'interno di tutta la questione che riguarda la situazione di riceci la discarica di riceci che oggi pone alla ribalta il consigliere e anche consigliere regionale andrea biancani pergola ora vediamo il disservizio che si è verificato nell'ospedale di pergola ospedale in tilt blackout improvviso e il generatore guasto tutti i pazienti hanno dovuto essere evacuati ebbene è veramente incredibile il malfunzionamento che si è verificato all'interno di questo ospedale che dovrebbe avere un po' tutti gli impianti che possono poi entrare in funzione in caso di guasti o di problemi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ci sono anche pazienti che sono in pericolo di vita 32 sono stati trasferiti all'ospedale di urbino quelli in condizioni migliori sono stati trasportati con un mezzo dei vigili del fuoco e gli altri con le ambulanze le operazioni di sgombero effettuate dal personale sanitario della struttura con il supporto poi anche dei vigili del fuoco sono andate avanti per oltre tre ore terminando verso le quattro durante la serata di sabato la corrente elettrica della struttura è saltata più volte e a questi problemi non ha potuto sopperire in sicurezza il generatore di emergenza sembra che insomma ci sia stato anche un buco per quanto riguarda il serbatoio e quindi forse la manutenzione anche se c'è stato un esame completo non molto tempo fa cinque mesi fa e beh questa cosa forse o non si è vista o ancora non era apparsa il fatto sta che l'impianto di emergenza non è entrato in funzione ed ora vediamo alcuni incidenti che si sono verificati tra sabato e domenica si schianta all'alba si schianta all'alba contro un palo grave un 32enne tornava a casa un grave incidente ieri mattina al sulla strada feltresca all'altezza di casa bernardi nel comune di tavuglia una fiat banda guidata da un 32enne di urmino di ritorno a casa ha perso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro un palo della luce e si presume che sia stato un colpo di sonno e poi vediamo ancora un altro incidente ieri sulla pecchiese dove i motociclisti amano affrontare in massa il tortuoso tracciato della strada ebbene uno di questi è caduto rovinosamente a terra ed è stato soccorso e portato all'ospedale se la caverà per fortuna in pochi giorni a fossombrone è stata rubata un auto suzuki che però è stata rinvenuta in una scarpata a smirra forse un ladro o un dispetto oppure un incidente nel corso di un furto e poi passiamo a pesaro passiamo a pesaro in modo particolare dove vediamo che il riva azzurra uno degli alberghi che ormai insomma ha finito un po di svolgere la sua funzione verrà abbattuto e poi di nuovo ricostruito e il nuovo salirà alquanto nel panorama urbanistico della città sarà alto 25 metri l'edificio di viale trieste lato di levante è stato acquistato da nardo filippetti che mai ha fatto un po tanti investimenti appunto nelle strutture ricettive della pesaro il gruppo si sta espandendo a ritmo incessante a colpi di hotel dice il resto del carlino e poi vediamo quello che avverrà in ancona lo sbarco la nave con 33 36 migranti arriva stasera al porto è attesa con un solido apparato di assistenza di soccorso è attesa per oggi dunque la ocean viking lo sbarco più numeroso che il porto di ancona avrà affrontato fino ad oggi da quando è stato individuato dal governo come uno scalo di sbarchi umanitari le previsioni del tempo non sono buone per oggi abbiamo visto come nel pomeriggio potrebbero peggiorare quindi le operazioni di sbarco potrebbero così subire dei problemi però insomma si sta facendo di tutto affinché questi migranti che hanno veramente sofferto molto nell'attraversamento del mediterraneo molti di loro purtroppo sono morti sono giunti in condizioni debilitanti per quanto riguarda le loro condizioni fisiche vediamo anche qualche altro articolo di cui abbiamo parlato nella prima pagina vediamo come il maestro muti dirigerà la musica di spontini a jesi concerto e omaggio al compositore il maestro muti sulla tomba di spontini vergogna si fa poco per la musica ha dichiarato e lo vediamo qui il maestro mentre porta un omaggio floreale alla tomba del compositore all'interno della chiesetta che custodisce le sue spoglie riuscirò a portare qui le spoglie della sua amatissima moglie celeste errad che oggi riposa a parigi e ha promesso appunto il direttore d'orchestra prima di andare al teatro pergolesi di jesi e poi a maiolati che poi maiolati si chiama maiolati spontini colpo in tabaccheria durante la notte razzia di sigarette e gratta e vinci a macerata ebbene è stato un colpo fruttuoso si parla di un danno di 25 mila euro e secondo una prima ricostruzione nella notte qualcuno ha tagliato la serranda con una taglia lamiera a batteria poi ha utilizzato un tubo preso dal cantiere edile lì vicino e l'ha usato come piede di porco per sollevare la serranda e aprire la porta una volta dentro ha preso di mira gli articoli più di valore e poi si è dileguato si cerca di rintracciare appunto gli autori di questa impresa magari contando anche sulle riprese delle telecamere che ci sono in zona questo per quanto riguarda il resto del carlino e ora chiudiamo e apriamo il corriere adriatico vediamo il sunto in prima pagina dedicato allo sport la fotonotizia impresa vl virtus ribaltata la virtus non è quella di fan ovviamente ma è la squadra ospite di pesaro per quanto riguarda il basket mentre il titolo più grande è dedicato alla bicipolitana over 110 chilometri a tanto raggiunge il percorso realizzato a pesaro per chi va in bicicletta si allunga il tracciato ciclabile con l'inaugurazione del tratto muraglia santa veneranda scommessa di belloni dell'assessore belloni faremo in tempo ad aprire anche via liri e progettare via giolitti sono gli impegni anche che si prendono a fine tornata amministrativa dato che le elezioni sono a giugno e in pratica l'attività della giunta per quanto riguarda gli investimenti e tutto quanto si ferma tra breve perché poi verranno presi soltanto atti di normale amministrazione e non di straordinaria contratto da 25 milioni ora revocate tv roli i verdi chiedono un'azione di responsabilità nei confronti della di di marche multiservizi per l'affare garantito alla società di san marino anche qui insomma vedete come la riceci sia sempre al ribalta e poi le tre notizie che riguardano pesaro pergola e anche un po tutta la regione marche perde il controllo dell'auto e si schianta e grave a torrette è un articolo che riguarda un incidente stradale a pergola abbiamo visto come sia stato evacuato l'ospedale per un cortocircuito 32 pazienti a fano sanità esame a rischio con il nuovo tariffario attese più lunghe questo per quanto riguarda la cronaca regionale allora diamo un'occhiata per quanto riguarda quest'ultimo articolo eccolo qua sanità gli esami a rischio con il nuovo tariffario esploderanno le attese che cosa è accaduto è accaduto che i laboratori analisi e le case di cura private quelle private nelle marche all'assemblea nazionale di roma hanno evidenziato come a fronte di un piccolo risparmio nelle impegnative si creeranno disagi per i pazienti ebbene anche questo accade per quanto riguarda la gestione della sanità e sappiamo come purtroppo molti molti pazienti sono costretti a rivolgersi ai laboratori privati perché il pubblico non riesce a dare nei tempi dovuti nei tempi giusti sono lunghe lunghissime attese la mobilità passiva lo dimostra le prestazioni che dovrebbero dare ai pazienti i quali ovviamente pagano stasse sostanziose per sostenere il sistema sanitario nazionale e allora diamo subito un'occhiata alle altre notizie passando per pesero abbiamo parlato della bici politana che è vicino al traguardo dei 110 chilometri il 6 aprile ci sarà l'inaugurazione di altri tre chilometri tra muraglia e santa veneranda e quindi chi vuol andare in bicicletta può tranquillamente usufruire di questo corridoio in sicurezza e belloni rilancia faremo in tempo ad aprire via liri e progettare via giulizi a vismara anche il sottopasso ciclo pedonale ebbene pesero è piuttosto nota per la predilezione che ha usato per chi va in bicicletta e allora vediamo un attimo che cosa ha costruito in dieci anni in dieci anni ha visto e sono visti realizzati 32 percorsi eventi rondo che hanno sostituito altrettanto semafori i semafori erano quelli che imponevano delle lunghe attese delle lunghe code lungo le strade ora con il rondo la situazione insomma non è risolta perché poi chi si avvicina ad una rotatoria deve fermarsi per vedere un po il sistema delle precedenze comunque è migliorata assai entro il mese di marzo sarà inaugurata la pista di colombarone nel mese di aprile saranno inaugurati oltre tre chilometri di tracciati che collegano muraglia e santa veneranda compresi nel pacchetto delle opere compensative che si è impegnata a realizzare la società autostrate nel mese di maggio inizieranno invece i lavori del sottopasso tra via vismarra e torraccia con il completamento della ciclabile di via liri e dentro marzo verrà presentato il progetto esecutivo per la ciclabile di via giolitti quindi impegni sostanziosi per quanto riguarda la viabilità compatibile terza rotatoria sulla siligata sopra luogo dei tecnici anas nonostante il duo rondò e la ciclabile a colombarone i mezzi vanno troppo veloci e sono i mezzi che passano sulla statale 16 e attraversano una frazione che si affaccia sulla arteria e quindi lì il transito in modo particolare per i residenti è molto molto pericoloso perde il controllo dell'auto e si schianta c'entra un palo poi un muro ed è in gravi condizioni trasportato in eleambulanza a torrette a montecchio due feriti nello scontro tra autovetture e vediamo come ci sono diversi incidenti è stata un'alba complicata quella di domenica quella di ieri segnata da due incidenti stradali accaduti nell'arco di un'ora e mezzo che hanno impegnato sia i vigili del fuoco di pesaro che i mezzi del 118 per portare i soccorsi per i rilievi sono invece intervenuti gli agenti della polizia municipale il più grave è un incidente autonomo ha fatto tutto da solo accaduto alle 6 e 10 del mattino ma vediamo che ci sono stati anche altri incidenti schianto con l'auto ferma grave un centauro questo è un incidente che è accaduto nella serata di sabato in via Sesta Strada a Bellocchi dove una persona, un fanese in sella ad un ciclomotore percorrendo la strada è andato a sbattere contro la parte posteriore di un'auto che procedeva nello stesso senso è caduto, si è fatto molto molto male ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Pesaro poi un altro incidente è accaduto in via Fanella dove la careggiata è ristretta a causa dell'invasione di un cantiere edile e lì il transito è a senso unico alternato c'è una lanterna semaforica che appunto autorizza il passaggio qui un'auto per evitare un'altra auto è andata a sbattere contro due auto in sosta insomma per fortuna qui però le persone non hanno subito danni ma danni solo ai mezzi torniamo a Pesaro e vediamo come a Villa Caprile c'è una battuta d'arresto per quanto riguarda il restauro dei giardini il restauro dei giardini torna a Roma c'è stata una protesta, una lettera che insomma dice che le cose non vanno da parte di Lupus in fabola da parte degli ambientalisti e Roma sembra che abbia condiviso le dichiarazioni che sono state fatte e allora diamo un'occhiata anche alla pagina di Fano dove vediamo che mercoledì sarà portato in Consiglio Comunale il regolamento che rende attuabile il piano delle antenne finalmente c'è una legge, una normativa a cui anche le società di gestione di questi impianti debbono adeguarsi a tutela sia dei siti ambientali sia della salute pubblica giungerà all'approvazione del Consiglio Comunale mercoledì prossimo il regolamento di applicazione del piano delle antenne che definisce gli obblighi delle società di gestione ebbene ci sono tutta una serie di prescrizioni che le ditte devono osservare fermo restando che la copertura del territorio questo lo prescrive la legge nazionale deve essere garantita in un modo o nell'altro bisogna trovare spazio per le antenne e prima di chiudere la nostra rassegna stampa voglio farvi vedere anche questo articolo pubblicato dal Corriere Adriatico che riguarda uno spettacolo teatrale andato in scena sabato scorso nel Teatro della Fortuna un grande affresco della storia della marineria fanese interpretato dagli studenti dei licei Torelli lo scientifico Torelli di Fano e Pergola e del liceo Nolfi a Polloni un grande affresco della marineria con un riferimento alla Maria Risorta 30 ragazzi sul palcoscenico un lavoro considerevole sì, c'è stata qualche pecca ma insomma veramente uno spettacolo da preservare e magari anche da rivedere e questo è tutto per oggi Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci